Sanità, atto aziendale ridimensionato all'ospedale di Sapri, stasera incontro dei sindaci. Tegiano, sabato scorso il gruppo Rinnoviamo Diamano ha incontrato la stampa per spiegare le ragioni delle polemiche in consiglio. Trinitati, sala consiglina, ricollocate le corone sulle statue della Madonna del Carmelo. San Pietro Altanagro, ieri inaugurato il sentiero odoroso per i non vedenti. Sport, Valdiano ancora K.O. in eccellenza per il Fuzzle Claravì, solo un pari. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. In primo piano la sanità, la bozza dell'atto aziendale presentato venerdì sera dall'Asla di Salerno. Sede da un lato che genera ottimismo per il futuro dell'ospedale di Polla, non certo è ottimistica la situazione per quanto riguarda l'ospedale di Sapri che verrà ridimensionato. Su questa vicenda i sindaci del distretto 71 questa sera si riuniranno proprio presso l'aula consigliare del comune di Sapri. Reazioni diverse alla pubblicazione dell'atto aziendale dell'Asla di Salerno tra Golfo di Policastro e Vallo di Diano. Mentre per l'ospedale di Polla Sant'Arsenio si registra un certo ottimismo, nonostante alcuni ridimensionamenti e tagli subiti, come il servizio per le tossicodipendenze che non sarà più presente a Sant'Arsenio e il servizio di psichiatria che è stato ridimensionato a unità operativa con funzioni di supporto alla rete di psichiatria dell'Asla di Salerno, per l'ospedale dell'Immacolata di Sapri la tensione è evidente. Non a caso i sindaci del distretto sanitario 71 hanno deciso subito di riunirsi in un tavolo di concertazione per esaminare insieme l'atto aziendale e preparare le contromosse a difesa del servizio del presidio ospedaliero che in particolari periodi dell'anno serve un maggior numero di utenti essendo area di turismo balneare. Nonostante l'aumento dei posti letto per l'ospedale di Sapri, che vede ai 97 precedenti un'aggiunta di 23 posti distribuiti nelle unità operative di cardiovascolare, chirurgia, medicina e materno infantile, si registrano diverse unità declassate a strutture semplici senza primario. Certo è che il nuovo atto aziendale, ancora non definitivo e su cui è possibile presentare osservazioni e richiedere modifiche, sembra puntare molto sulle strutture dipartimentali, superando in molti casi la figura del primario che viene sostituito da un direttore. L'atto aziendale presentato dall'Aslo di Salerno infatti prevede l'istituzione di 7 dipartimenti ospedaliere aziendali che sono dipartimento delle discipline mediche, dipartimento delle discipline chirurgiche, dipartimento cardiovascolare, dipartimento patologia testa-collo, materno infantile, area critica e infine il dipartimento dei servizi. Tutte strutture che non prevedono più la presenza di un primario, ma piuttosto di un capodipartimento che fungerà da coordinatore dei diversi direttori presenti nelle unità operative. Questi ultimi avranno quindi una più ristretta autonomia dovendo seguire le indicazioni di un capodipartimento. Una modalità di gestione che se da un lato riduce notevolmente l'autonomia di chi è chiamato a dirigere le unità operative di riferimento, dall'altro, dovendo seguire le indicazioni del capodipartimento, può garantire un servizio di assistenza omogeneo in tutti i presidi ospedalieri dell'Aslo di Salerno. Si attende comunque l'ufficializzazione del nuovo atto aziendale che è ancora suscettibile di lievi variazioni, ma si tratterà comunque di miglioramenti e non di tagli. Mentre il Vallo di Diano gioisce per lo scampato pericolo e per il rafforzamento dei servizi con l'aggiunta del servizio ambulatoriale di oncologia, nel Golfo di Policastro ci si prepara ad una nuova battaglia a difesa dell'ospedale dell'Immacolata che si è visto depotenziare alcune strutture complesse come ostetricia, pediatria, ortopedia e radiologia che con il nuovo atto sono diventate strutture semplici senza primario. Questa sera una riunione dei sindaci del distretto sanitario 71 presso l'aula consigliare del comune di Sapri per fare il punto della situazione per predisporre un documento con la richiesta delle modifiche e le dovute argomentazioni da inviare all'Aslo di Salerno. E invece per quanto riguarda la situazione dell'ospedale di Polla ascoltiamo qual è la posizione espressa tramite un comunicato stampa dal sindaco di Polla Rocco Giuliano. Avendo preso visione della bozza dell'atto azientale pubblicata nei giorni scorsi sul sito web dell'Aslo di Salerno relativa alla programmazione della sanità sul territorio provinciale il sindaco di Polla Rocco Giuliano attraverso un comunicato stampa rassicura i cittadini sul fatto che il presidio ospedaliero di Polla si vedrà assegnati 212 posti letto e conferma tutte le unità operative esistenti restando importante presidio di pronto soccorso nella rete di emergenza. In più sarà attivo un servizio oncologico in regime ambulatoriale. L'atto prevede per Polla 10 unità operative complesse che erogheranno importanti prestazioni per qualità e quantità e 10 unità operative semplici dipartimentali oltre alla psichiatria o servizio psichiatrico di diagnosi e cura in cui verranno erogate prestazioni altamente specialistiche. Il nostro comio di Polla vedrà attribuirsi nuovamente all'unità complessa di oculistica già centro di eccellenza e per la prima volta l'unità semplice dipartimentale di recupero e riabilitazione con 20 posti letto per la riabilitazione fisiatrica presso il presidio di Sant'Arsenio indicato quale ospedale di comunità. All'unità semplice di nefrologia e emodialisi che era a rischio di soppressione verranno assegnati 6 posti letto che saranno invece 4 per quella di gastroenterologia. Mentre servizi importanti quali il laboratorio di analisi e radiologia rimangono unità complesse vengono trasformati in unità operative semplici e non dipartimentali il centro trasfusionale e la pneumologia. Per questo motivo il sindaco esprime il suo forte rammatico in quanto evidenzia un ospedale catalogato come pronto soccorso attivo nella rete dell'emergenza non può non avere un'unità operativa semplice dipartimentale di pneumatologia senza la quale nonostante gli 8 posti letto assegnati non riuscirà a dare risposte assistenziali adeguate. Allo stesso tempo il primo cittadino di Polla sottolinea con orgoglio come dopo un lungo lavoro in sinergia tra i sindaci del territorio i sindacati e gli operatori sanitari il Luigi Curto resta il terzo presidio di cura della provincia di Salerno. Ciò detto auspica che i posti in dotazione organica che scaturiranno da tale atto saranno ricoperte al più presto da validi professionisti insieme ai quali in un clima di reciproca collaborazione porre fine alle carenze degli ultimi tempi e far tornare così l'ospedale di Polla agli splendori del passato. Andiamo avanti andiamo a Tejano dove venerdì scorso il Consiglio Comunale ha visto una bagarre che ha portato anche all'intervento dei carabinieri per il sequestro degli atti. Il gruppo Rinnoviamo di Ano sabato pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i motivi delle polemiche proprio nate all'interno del Consiglio Comunale. Il gruppo Rinnoviamo di Ano come ha annunciato ha incontrato la stampa sabato scorso per rendere nota la cittadinanza di quanto accaduto dell'ultimo Consiglio Comunale con l'arrivo dei carabinieri che avevano provveduto al sequestro degli atti relativi al secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Nel corso della conferenza stampa a cui erano presenti i quattro consiglieri del gruppo di opposizione con il capogruppo Rocco Cimino e i consiglieri Crescenzo De Paola Mariana Morello e Velia De Paola sono state rese note e spiegate le ragioni per le quali veniva richiesto di rinviare l'assise consigliare. Per il gruppo di minoranza l'assenza di dati fondamentali nello schema di convenzione che era stato portato in Consiglio per l'approvazione era un fatto gravissimo trattandosi di un contratto e che tale contratto risultava carente della controparte oltre che della durata e del costo soprattutto visto che andava ad incidere sulle casse comunali. Nel corso della conferenza stampa è stato anche reso noto che gli stessi argomenti sono stati poi ritirati dalla maggioranza durante la discussione che saranno quindi successivamente riproposti in Consiglio. Questa convenzione signori miri determinava alla fine un costo per lente noi dovevamo sapere era carente di durata costo l'unica cosa che c'era la percentuale 75% e 25% tra l'altro se non ricordo male precisai anche che un comune come il nostro a nostro avviso anche perché negli anni passati ho sostenuto anche questo ha bisogno che il segretario comunale sia presente costantemente 6 giorni su 7 in un comune come il nostro e che per il risparmio che si può determinare è un risparmio irrisorio dal mio punto di vista chiaramente è preferibile che noi abbiamo un unico segretario che si debiti completamente a noi anche perché il segretario è importantissimo per un'amministrazione è quello che ti deve seguire guidare aggiornarsi sulle nuove normative e poi non me ne vogliate visto chi c'è dall'altra parte in questo momento che parlano tanto di incompetenze forse veramente hanno bisogno di un segretario che li assista non 6 giorni su 7 ma 7 su 7 o se non addirittura di più questo in sintesi fatti insomma poi sono arrivati in Carabirno hanno acquisito tutta la documentazione gli atti messi a disposizione da noi gli atti messi a disposizione da loro io non so se i nostri sono uguali ai loro francamente questo non lo sappiamo però cosa è che noi a un certo punto poi abbiamo abbandonato sono ripresi i lavori abbiamo abbandonato l'aula per tutta una serie di motivi che avevamo evidenziato e non potevamo permettere che il consiglio continuasse almeno da parte nostra e se io dalle notizie che ho sembra che questi argomenti poi siano stati ritirati e non siano stati più discussi la conferenza stampa si è conclusa annunciando che a seguito del sequestro degli atti il gruppo è stato chiamato a presentarsi presso i carabinieri dove è stata sporsa querela un atto dovuto e che porterà quindi ad effettuare indagini da parte degli stessi carabinieri andiamo ora a Sassano dove al via ieri la settimana dedicata al progetto di Crea Sassano a Palazzo Bambino la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che valide 15 crediti formativi attribuiti dall'ordine degli architetti della provincia di Salerno rappresentato ieri dalla presidente Maria Gabriella Alfano ha preso il via ieri il progetto di Crea Sassano il workshop che vedrà impegnati architetti e ingegneri nell'elaborare progetti in grado di valorizzare alcuni luoghi caratteristici di valore culturale presenti sullo territorio comunale di Sassano ieri pomeriggio a Palazzo Bambino la conferenza stampa di presentazione con il vice sindaco Antonio D'Amato a fare gli onori di casa in realtà una ventina di professionisti sono qui a Sassano questa mattina l'ospitalità giro turistico all'interno del centro storico unitamente all'assessorato al turismo l'assessora Maria Russo questa sera facciamo appunto la presentazione di tutta quella che è la progettazione abbiamo ottimi propositi devo dire la verità anche perché abbiamo di fondo già la validazione di un progetto che è contestualizzato un progetto valido nel suo interno con elementi di biodiversità di sostenibilità di compatibilità diciamo un bel progetto di recupero il workshop è promosso anche dal Gavi il gruppo architetti valo di Diana e vale 15 crediti formativi per gli iscritti all'ordine degli architetti della provincia di Salerno rappresentato ieri dal presidente Maria Gabriella Alfano oggi si lavora molto più da soli invece è molto importante lavorare in gruppo lavorare in team la crisi insomma ci ha un po' costretti negli studi ognuno nel suo studio perché c'è poco lavoro non ci sono più gli studi grandi come un tempo e quindi un dialogo un dialogo intorno a che cosa intorno a quello che poi sono così il recupero di manufatti in questo caso dei lavatoi che fanno parte integrante della cultura del luogo soprattutto della cultura del mondo agricolo che è importante soprattutto in un territorio come questo del parco del Cilento del Vallo di Diano e quindi recuperare il lavatoio che faceva parte proprio della vita quotidiana delle popolazioni agricole che vivevano intorno del lavatoio sicuramente è un fatto importante e soprattutto lavorare con le aziende con le imprese edili con coloro che poi la devono realizzare perché serve anche a loro impadronirsi riappropriarsi di tecniche di intervento che nel passato si usavano e che forse negli anni si sono un po' perse Cambiamo argomento il protocollo sul processo penale e il titolo dell'incontro che si è svolto sabato mattina a Lauria organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lago Negro insieme all'Associazione Giovani Legali di Lago Negro e in collaborazione con il Comune di Lauria presente per noi Pietro Cusati che ha raccolto le parole dei protagonisti dell'evento è la prima volta che si fa un evento di formazione a Lauria adesso il circondario è vastissimo e quindi da Polla fino a Rotonda e abbiamo voluto scegliere questa sede con l'Università di Salerno col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro per portare un momento di alta formazione di alta formazione basta vedere gli interventi del consigliere di Nicola della terza sezione di tutti quelli gli altri protagonisti magistrati del Tribunale di Lago Negro ci sarà l'intervento del Presidente Cappelli quindi per noi l'alta formazione è il momento di crescita dell'Avvocatura e anche della Magistratura Sicuramente questo convegno è un momento di stimolo intellettivo per tutti noi giovani avvocati praticanti avvocati la sede che è stata scelta come ha già detto l'Avvocato Leonasi è di pregio per noi del circondario di Lago Negro Sala Consilina Il processo penale è finalizzato in qualche modo ad accertare la verità la prova è il metodo di formazione è il contraddittorio è il metodo migliore per formare la prova perché si ritiene che questo tipo di prova così formata sia lo strumento migliore per accertare la verità ovviamente quando si parla di verità non bisogna intenderla in termini assoluti ma relativi come è necessario quando si parla di processo penale perché la verità processuale è un conto altro è la verità assoluta dei fatti Il convegno è di notevole spessore tecnico e professionale anche perché va dal punto di vista legale va a toccare degli aspetti importanti per la prima volta si allarga il territorio lascia intravedere la possibilità di un percorso formativo che possa toccare i vari territori e che soprattutto possa contribuire a formare e a distruire su un argomento che spesso è avulso dalla nostra quotidianità questo è da noi accreditato ne approfitto per dire che nel mese di ottobre ce ne sarà un altro convegno in materia penale organizzato questa volta dal consiglio dell'ordine e in quell'occasione presenteremo e sottoscriveremo due protocolli in materia penale uno per la tenuta delle udienze da tempo atteso e un altro per la quantificazione dei compensi in materia di gratuito patrocinio credo che in quell'occasione con il presidente di sezione penale il dottor Scorza procederemo alla firma di questi due protocolli e finalmente potrei dire che gran parte del lavoro che la consigliatura da me presieduta si era posta è stato raggiunto l'iniziativa che oggi è stata presa è interessantissima perché lega il processo penale in un esame che riguarda tutti i profili dello sviluppo del processo stesso l'imputazione l'istruzione e la sentenza in un legame profondissimo la sentenza è come se venisse tracciato un solco entro il quale il giudice si deve muovere la sentenza è il momento di sintesi è l'atto nel quale il giudice rappresenta le ragioni per le quali adotta una determinata decisione la prova io devo dire che proverò a parlare della prova perché anche chi non è un addetto ai lavori capisce bene che è il processo non solo quello penale qualunque processo gira intorno alla prova la prova è il cuore del processo si possono fare tutti i discorsi giuridici più belli più elevati più quello che volete voi ma se questi discorsi questi argomenti queste tesi non vengono provati non servono assolutamente a nulla quindi detto questo l'unica cosa che posso dire è che proverò a parlare della prova sono molto onorato di essere stato infidato a questo convegno perché ha dei relatori che sono veramente eccezionali quindi ho fatto molta fatica a tirare da conclusioni di tanti spunti che sono stati si stanno affermati e sono stati affermati quindi è sicuramente un grande convegno di spunti e di cose interessanti a pochi mesi dalla scomparsa ieri Padula ha dedicato un'intera giornata alla memoria del professore Italo Gallo si è iniziati alle 16 con la posizione di una lapide dinanzi alla casa del professor Gallo poi successivamente un convegno presso la Certosa di San Lorenzo innanzitutto il professore Gallo che è stato il maestro di generazione di persone che a Padula nel Vallo Idiano ma a Salerno nell'Università di Napoli si sono misurate con la ricerca scientifica quindi la giornata di oggi è per lui per una persona che ha dato molto alla ricerca che ha contribuito a fare dell'Università di Salerno una delle grandi università italiane ma soprattutto in questo caso per questo oggi siamo qua a fare anche nel suo paese senza dimenticarlo anzi tornandoci più spesso sempre più spesso un luogo di cultura un luogo di incontro un luogo anche di dibattiti intellettuali importanti Già essere qui a Padula era doveroso da parte dell'Università per rendere omaggio ad una persona che tanto si è rimpegnata con la sua attività con le sue opere sia come grande studioso perché ha realizzato circa 400 pubblicazioni sia con il suo impegno della didattica nelle scuole superiori prima l'Università di Napoli e quella di Salerno a Salerno lui è stato dai fondatori della facoltà di lettere e allo stesso tempo è stato tra coloro i quali ha contribuito materialmente alla gestione dell'Ateneo essendo stato in consiglio di amministrazione e direttore di dipartimento insomma non solo un grande studioso ma anche una persona che si è sporcato le mani ha animato il territorio perché pur pensando in maniera internazionale è uno che comunque è sempre stato molto radicato alle proprie radici e ha valorizzato il territorio in questo senso l'Università di Salerno in quest'opera anche di valorizzazione del territorio di rapporto con eccellenze come quella di Padula sicuramente la presenza dell'Università diventa importante per i progetti comuni che possono essere realizzati il ricordo di Italo Gallo non si fermerà soltanto a questa iniziativa ma insieme alle associazioni agli istituti culturali che oggi hanno collaborato con noi sicuramente penseremo ad altre manifestazioni la giornata di oggi è stata voluta dalla città di Padula con il supporto importante del Comitato Scientifico del Museo Multimediale in collaborazione con il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 con il Rotary con la Società Salernitana di Storia Patria e con il Centro Studi Pietro Laveglia per cui un insieme di forze che oggi hanno appunto dato vita ad una giornata in memoria del Professore Gallo La Professore Gallo ha lasciato una traccia indelebile nel mondo della cultura nazionale e anche internazionale però quello che mi piace evidenziare è come dire il suo amore per Padula e il Vallo di Diano Padula era il suo luogo dell'anima ed era sempre disponibile a venire qui nel Vallo di Diano ogni qual volta lo si invitava per un convegno personalmente ho avuto così il piacere di avere la presentazione ad un mio libro fatto dal Professore Gallo un libro sul 1799 nel Vallo di Diano Professore Gallo ha lasciato 383 pubblicazioni in 50 anni significa una media di 8 all'anno e credo che nessuno abbia potuto o avuto la possibilità di leggerle tutti ma questo per dire quella che era la caratura dell'uomo Era doverosa la presenza del Callorberto alla giornata in ricordo di Italo Gallo e noi abbiamo avuto così il piacere di ascoltare come testimonianza diretta in due momenti particolari il Professore Gallo la prima volta è stata in occasione dell'inaugurazione della nuova sede sociale del Circo avvenuta nel 2003 L'altra piacevole serata è stata in occasione del suo 85esimo compleanno che festeggiamo proprio qui nella Certosa di San Lorenzo ho ereditato ho ereditato qualche cosa diciamo di molto bello di straordinario che Italo Gallo aveva fin dal 1983 progettato e aveva coinvolto molti suoi colleghi tra cui anche io un progetto che ha significato diciamo far risuscitare la società salernitana di storia patria che dal 1966-67 aveva cessato le attività e aveva cessato le pubblicazioni anche la rivista della società la rassegna storica salernitana grazie a Italo Gallo la società è rinata come dire vita nuova è un grande merito di Italo Gallo questo straordinario professore ed ora a Trinità di Sala Consilina dove ieri mattina dopo i furti dello scorso agosto la chiesa della Santissima Trinità ha riabbracciato le due corone che sono state apposte sulla statua della Madonna del Carmelo del Bambin Gesù dopo la benedizione nel corso della Santa Messa ufficiata dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca La statua della Madonna del Carmelo custodita nella chiesa della Santissima Trinità ha riavuto la sua corona nel corso della celebrazione religiosa di ieri mattina il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca ha ricollocato sul capo dell'immagine della Madonna del Carmelo e del Bambino le corone di cui erano prive dallo scorso mese di agosto nella notte tra l'8 e il 9 agosto infatti la chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina era stata presa d'assalto dai malviventi che avevano trafugato le corone dal capo delle statue della Madonna dell'Immacolata Concezione della Madonna del Carmelo un furto sacrilego che seppur di modesto valore aveva comunque scosso fortemente la comunità religiosa del posto i ladri introdottisi nella chiesa avevano portato via oltre le corone dal modesto valore anche poche centinaia di euro che erano custoditi nelle cassette votive e che erano oggetto di donazione da parte dei fedeli inoltre avevano tentato di recuperare altri oggetti introducendosi nella sacrestia senza però riuscire ad individuare nulla di valore che potesse risultare di interesse particolare in ogni caso il furto aveva particolarmente scosso la comunità che non vedendosi restituire le corone si è adoperata in una colletta per raccogliere i fondi necessari per riacquistare le stesse e riporle sul capo delle statue da cui erano state trafugate nella mattinata di ieri in occasione della Santa Messa Domenicale celebrata da Monsignor De Luca si è anche tenuta la benedizione delle due corone che poi il vescovo ha riposto sul capo della Madonna del Carmelo e del Bambin Gesù Andiamo ora a San Pietro Altanagro dove ieri pomeriggio è stato inaugurato il sentiero odoroso per non vedenti una iniziativa resa possibile grazie all'opera dell'associazione Fata Onlus Ieri pomeriggio è stato inaugurato al Parco dei Mulini a San Pietro Altanagro il sentiero odoroso per non vedenti realizzato dall'organizzazione di volontariato di protezione civile Fata Onlus in collaborazione con il comune di San Pietro Altanagro e l'iniziativa rientra nel progetto La Natura Ci Parla a toccare per vedere sostenuto da Sodalis CSV Salerno nell'ambito del Bando Progettazione Sociale 2014 all'inaugurazione è presente il sindaco di San Pietro Altanagro Domenico Quaranta il presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi e degli Povidenti Francesco Cafaro il vicepresidente di Sodalis Salerno Mario Cafaro e i volontari di Fata con in testa il presidente Marianna Iannone Abbiamo realizzato un sentiero odoroso per i non vedenti con l'aiuto del centro di volontariato di servizi di Salerno un sentiero dedicato e realizzato apposta per i non vedenti quindi l'abbiamo reso fruibile anche ai non vedenti le particolarità sono nella serie di piante odorose che indicano il percorso ai non vedenti per arrivare alla cascata assolutamente ringraziamo innanzitutto l'associazione Fata che ha proposto questo progetto ha avuto la possibilità di farlo perché è socia del centro servizi del volontariato e noi facciamo delle programmazioni e hanno vinto un bando 2014 hanno vinto questo bando noi come centro servizi del volontariato nella provincia di Salerno siamo più di 200 associazioni socie di Sodalis e eroghiamo servizi per le associazioni di volontariato in effetti il sentiero già esisteva l'arricchimento è stato fatto di piante che consentono ai non vedenti appunto di percorrerlo in sicurezza grazie a questa iniziativa di Fata Ollus abbiamo un elemento in più di questo parco già di per sé molto bello che dovrebbe appunto adecchirsi ancora maggiormente con questa iniziativa sono felici di essere qua fra amici anche perché noi come associazione l'Unione Italiana Circa e Tipo Vedenti sezione provinciale di Salerno di cui io sono il presidente sono responsabili di tutto il territorio salerno quindi oggi ho portato anche dei ragazzi non vedenti per cui sono anche bravi a leggere il braille loro potranno vedere bene come sono i percorsi dare un giudizio più tecnico nella lettura e quant'altro quindi questo non fa altro che onore a San Pietro in questa zona diciamo un po' spostata verso il sud del meridione dove diciamo ci dovrebbe essere molto più attenzione ai cosiddetti come dicevi giustamente disabili visivi seconda parte dell'edizione serale dell'Euno News il concerto bandistico città valo di Diano Sassano parteciperà alla manifestazione internazionale dedicata alle bande musicali che si terrà in Bulgaria è la prima volta che una banda musicale del valo di Diano partecipa ad una manifestazione così importante tutto pronto a Sassano per il lungo viaggio che attende la banda musicale locale per partecipare al festival bandistico internazionale che si svolgerà a partire dal 30 settembre in Bulgaria per la prima volta in assoluto una banda musicale del valo di Diano parteciperà ad una manifestazione di caratura internazionale che in questa occasione si terrà in terra bulgara la serata inaugurale si terrà il 30 settembre mentre nei giorni successivi l'evento si sposterà a Pravez e a Sofia con quest'ultimo che concluderà in grande stile la tre giorni musicale il concerto bandistico città valo di Diano Sassano parteciperà con grande orgoglio pubblicizzando nel mondo le capacità musicali del nostro territorio che troppo spesso non hanno modo di emergere questa novità che si spera non rimane isolata nella comunità sassanese e in tutto in generale per il valo di Diano è stata resa possibile grazie al grande impegno e alla passione che hanno profuso gli organizzatori del posto in particolar modo Nicola Lisa e il professor Brando Daniele da sempre nei nostri territori le bande musicali e soprattutto i musicisti che ne fanno parte si distinguono per bravura passione e dedizione ragion per cui questa prima partecipazione deve essere da sprono per un continuo miglioramento degli artisti presenti nei nostri territori ed ora apriamo la pagina sportiva un sabato amaro per il Valdiano che nell'anticipo contro il Faiano perde 2-1 in casa il Valdiano va ancora una volta a K.O la squadra di Mr. Manfredini non trova la via del risultato in campionato anche contro il Faiano nel primo derby salernitano della stagione termina con una sconfitta Spinelli e Soci sono costretti a capitolare contro la formazione del DG Mario Bracco che resta in vetta al punteggio pieno dopo tre giornate Valdiano in campo con un 4-3-3 a centrocampo Maglia da titolare per Pascuzzo mentre Spinelli in attacco dal primo minuto alla mezz'ora di gioco arriva il gol degli ospiti Grieco lancia nello spazio Pellegrino che bate Tortora siglando il gol del vantaggio il raddoppio arriva al 65esimo con la femmina che recupera palla sulla tre quarti e dopo un paio di dribbling entra in aria e piazza in rete il gol del 2-0 la partita diventa ruvida e prima Farano poi Anastasio lasciano in dieci le rispettive squadre il Valdiano sotto di due gol ha un moto d'orgoglio e all'ottantunesimo Spinelli accorcia le distanze dal dischetto poi lo stesso Spinelli sfiora il gol del pari nei minuti di recupero ma Senatore salva i suoi il triplice fischio del direttore di gara spegne le speranze del Valdiano tre sconfitte intergare non certo un inizio di campionato idilliaco per la società blaugrana che deve correre assolutamente ripari se non vuole diventare la cenerentola del girone B troppi giovani in campo e un'identità assente che non può essere sopperita dai pochi giocatori di esperienza c'è tanto da lavorare per raddrizzare la barca che in questo momento sta imbarcando acqua da tutte le parti e ora il futsal non basta un debutto con tripletta per l'argentino galignane Salclaravì deve accontentarsi del pareggio dopo la rimonta dello Spartak San Nicola terza giornata di campionato con il futsal claravì chiamato al riscatto nella gara casalinga contro lo Spartak San Nicola dopo la debacle interna contro il Benevento della prima giornata con il marciliano ancora out per infortunio dovrebbe rientrare tra due settimane la torsida giallonera ha abbracciato l'argentino Facundo Galignanes che delizia il pubblico e con una straordinaria tripletta indirizza il punteggio sul 4 a 1 poi Trica trasformando il tiro libero porta il punteggio sul 5 a 1 come un film già visto proprio sul massimo vantaggio la squadra di mister Rosciano si scioglie come neve al sole infatti in pochi minuti la compagine casertana trova tre gol che fissano il punteggio sul 5 a 4 all'intervallo all'inizio ripresa la partita stente a decollare tuttavia la formazione di mister Graziano preme e al tredicesimo trova il paro con un gran gol di Morelli i gialloneri non ci stanno e Lopez Neves riporta in vantaggio i suoi ma il gol dell'Iberico illude perché prima mele batte rapidamente un calcio di punizione con i padroni di casa a guardare Tauro ribaltano il punteggio sul 6 a 7 il futsal claravì approfittando della superiorità numerica per l'espulsione dell'estremo difensore De Vico trova nel pareggio ancora con Lopez Neves che fissa il punteggio sul definitivo 7 a 7 ancora una volta il pubblico a corso alla palazzinga lo resta con l'amaro in bocca la squadra di mister Rosciano dopo una prima metà del tempo idilliaca cala fisicamente una gestione pessima della partita con la squadra passa attetricamente fuori forma mentre gli adversari corrono e volano Galignanes ancora lontano dalla forma ideale è un lusso per la categoria e ha diversi colpi tuttavia è tutta l'orchestra che non sembra in grado di reggere tutto l'arco della gara e anche il presidente Spinelli è apparso contrariato al termine della sfida e al termine del match di sabato pomeriggio il presidente del futsal Claraviv Vincenzo Spinelli ha praticamente mostrato tutta la sua amarezza per la vittoria non arrivata frutto a suo avviso anche di una pessima condizione atletica oggi sono molto deluso finora rispetto alle prime partite penso che questa è veramente quella per me con la peggior riuscita perché non si può buttare una partita così con una squadra secondo me alla portata vincevamo di quattro gol vedo degli errori degli errori di gestione degli errori anche da un punto di vista atletico vedo i ragazzi che stanno proprio a terra non so il perché ma oggi sono deluso la nota positiva però si chiama Facundo Galignanes arriva in fiamma la torcida poi purtroppo nemmeno lui ce la fa per ovvi motivi è un buon punto da cui partire nel senso che il giocatore si è calato subito nella realtà del Claravì ma sicuramente lui non è un giocatore da C1 un giocatore che ha calcato sempre serie superiori dalla B a salire fino alla 1 quindi fondamentalmente è un regalo che ho fatto alla mia squadra però naturalmente non è in forma si vede può giocare così con minutaggio ridotto però non è quello il problema il problema è che oggi non ho visto la squadra che volevo vedere in campo sono felice per Neves il portoghese che tutti avevano dato per un acquisto sbagliato ma per me non lo è tant'è vero oggi lui ci ha salvato e un giocatore che ha fatto la B la 2 sicuramente in una C1 potrebbe per forza far bene quindi non vedo quale problema dovrebbe essere questo giocatore comunque speriamo nel proseguo la condizione fisica e il tallone da kill che si vede in queste prime tre giornate non si può arrivare a 5 minuti dalla fine essere scoppiati si inizia a essere un problema perché fondamentalmente vedo che le altre squadre stanno tutte meglio di noi da un punto di vista fisico non vedo che le altre squadre chissà quanti cambi facciano quindi secondo me non è nemmeno un problema di panchina bisognerà capire un pochino come far ritrovare a questi giocatori la giusta la giusta in pratica prestanza fisica perché li vedo proprio a terra fisicamente con lo sport termine il nostro TG grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a st Health a tutti i nostri a tutti i nostri